Questa racchetta pochi giorni fa a Wimbledon e quindi a fianco dell'autografo di Francesco Totti c'è l'autografo di Roger Federer. Inutile che vi dica quanto questo oggetto sia esclusivo in quanto possa valere da qui agli anni a venire. Adesso lascio di nuovo la parola al battitore d'asta che sarà un mattino. Invito ovviamente la squadra a partecipare. Anche loro possono partecipare. Potete fare anche associazioni temporanee di imprese, società e gruppi. Possono lasciare delle sasse. Cerchiamo di raccogliere di più di quanto abbiamo già raccolto l'anno scorso. Grazie. Grazie, grazie. Allora io devo dire che ho questo oggetto in mano e voglio chiedere ad un altro grande campione, tra un po' magari l'asta la facciamo iniziare proprio a lui, che è Costas Manolas. Se ti piace, ti piace giocare a tennis a Costas? No, non l'ho mai giocato. Mai giocato a tennis? Ti volevo dire, qual è, se dovessi scegliere un altro sport, quale sport ti piace? Basket. Basket. Si potrebbe fare.